Dottore, una ricerca dedicata alla salute maschile, possiamo riassumere i risultati più significativi? Sicuramente sì, diciamo che le abitudini alimentari, abbiamo affrontato questo tema, mostrano che c'è da un lato un atteggiamento positivo e consapevole da parte di una minoranza della popolazione, una popolazione che abbiamo definito molto attenta e tutto questo vediamo che è collegato ad altri aspetti estremamente positivi, la consapevolezza che il moto, l'attività fisica sia importante e quindi vediamo che per esempio c'è una parte ovviamente più concentrata nelle generazioni più giovani di persone che prestano molta attenzione all'attività fisica. L'attenzione alla salute è molto elevata a livello di dichiarazione ma poi molto spesso non è accompagnata da comportamenti coerenti. Lo vediamo per esempio anche attraverso notizie che magari ci fanno un po' sorridere, cioè persone che praticano attività sportive e continuano a fumare, per esempio sono due comportamenti contraddittori. Così come vediamo che nel luogo di lavoro prevale un atteggiamento di grande sedentarietà e quindi magari c'è una parte di popolazione che pur potendo fare delle pause durante l'attività lavorativa decide di non muoversi e di rimanere seduto tranquillamente al proprio posto di lavoro, magari consultando internet o facendo altro. Ecco tutto questo ma si presta a uno stile di vita attivo e sano e quindi per certi versi è importante che ci sia da un lato una, come posso dire, costante educazione e formazione del cittadino nelle diverse accezioni e diverse dimensioni. Dicevo prima è interessante notare cosa sta succedendo in ambito alimentare ma molto spesso proprio in ambito alimentare abbiamo dei comportamenti che sono assolutamente contraddittori e cioè vediamo persone che per esempio subiscono il fascino, che ne so, di alcune correnti di pensiero esoteriche oppure ritengono che alcuni alimenti facciano male e decidono di, come dire, cambiare il proprio regime alimentare perché immaginano che assumere determinati alimenti possa essere più positivo. Per esempio la cosa che mi ha fatto molto specie nelle ricerche che facciamo c'è un consumo di prodotti per celiaci che è decisamente superiore a far bisogno di chi soffre di celiachia nel nostro paese. Quindi il tema è, da un lato, mai abbassare la guardia e un'attività, come dire, di crescita anche culturale dei cittadini che in qualche modo richiede però la convergenza di diverse agenzie educative, non solo la scuola, sicuramente molto importante la scuola, però è sulla popolazione adulta che bisogna agire perché cambi le proprie abitudini e possa raggiungere non soltanto una qualità della vita elevata ma anche, come dire, uno stile di vita molto più salubre. Grazie